Sulle misure stiamo valutando assieme, bisogna valutare tutto assieme e il quadro definitivo sarà chiarito, chiedo scusa, con il DEF, quindi prima di quella data non è il caso di entrare nel merito di singole misure, anche perché è un quadro complessivo che va messo a punto. Sul sistema bancario, fermo restando che i mercati finanziari internazionali, quindi non solo quelli italiani, le borse di tutto il mondo, continuano ad essere nervose in generale nei confronti di molte classi di titoli, ma anche il sistema bancario, continuo a dire che il sistema bancario italiano è solido, sta percorrendo un processo di aggiustamento strutturale sospinto anche dalle leggi che sono state introdotte, a cominciare dalle banche popolari di un anno fa e naturalmente ci sarà un'ulteriore spinta con il decreto sulle BCC, sulle banche di credito cooperativo, allo stesso tempo il governo ha messo in campo misure che stanno cominciando a dar frutti per facilitare lo smaltimento delle sofferenze degli NPL, quindi è un processo che sta andando avanti, richiede tempo, questo non lo dico io, l'ha detto il Presidente Draghi, si tratta di rimettere in sesto un sistema finanziario in Italia, ma non solo, in molti paesi che è passato, nel caso italiano, è passato a praticamente indenne della più grave crisi del dopoguerra, quindi non è un compito che si risolve da un giorno all'altro.